Bentornati in diretta cari ascoltatori nel nostro appuntamento con Punto Zero Caffè. Oggi ci occupiamo della vostra salute, anzi della salute del vostro udito con Pontoni, udito e tecnologia. Si tratta di una realtà con 25 studi nel Triveneto e che aiuta le persone con problemi di udito a sentire meglio, grazie ai giusti apparecchi acustici e al lavoro anche degli audioprotesisti che lavorano proprio per Pontoni. E qui con noi abbiamo il dottore audioprotesista Francesco Pontoni e la dottoressa Giulia Venturini in collegamento anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Allora lascio a voi anche insomma un po' il piacere di presentarvi anche con la vostra professionalità. Francesco cominciamo da te. Sì, allora come abbiamo detto io sono un audioprotesista come la collega, aiutiamo quindi le persone che hanno problemi di udito non solo a sentire di più, perché sentire meno significa anche avere delle relazioni compromesse con i familiari, con i colleghi, con gli amici e quindi le aiutiamo a riprendere in mano la propria vita e appunto le proprie relazioni. Sono coautore di uno dei libri più letti riguardo agli apparecchi acustici in Italia, faccio parte di una serie di gruppi di ricerca e sono responsabile all'interno dei nostri studi della ricerca e sviluppo. Benissimo Francesco, grazie. Giulia invece parliamo di te e a te, anche per te vale il piacere insomma di presentare la tua professionalità ai nostri ascoltatori. Sì, allora anch'io sono un audioprotesista da 5 anni più o meno e seguo soprattutto bambini, infatti ho un buonissimo rapporto anche con il burlo, collaboro molto con loro e all'interno della nostra squadra sono anche la responsabile della parte di Trieste, della provincia di Trieste di seguire sia adulti che bambini che hanno gli impianti cocleari che sono quella specie di orecchio bionico, quindi qualcosa un po' anche di diverso rispetto a un apparecchio acustico. Benissimo, grazie Giulia. Allora è tempo insomma di farvi qualche domanda anche per chiarire un po' quali sono insomma i tipi di aiuto che potete dare, grazie a Pontoni. Beh insomma sappiamo tutti che ci è capitato tutti insomma di avere qualche conoscente, qualche parente che sente un po' meno, no? La prima cosa che ci viene in mente è quella di alzare un po' il volume della tv, se parliamo della tv, oppure se non sentiamo tanto bene possiamo chiedere agli altri di parlare più forte. O non è soltanto così Francesco? Allora in realtà non è così, non è così. Facciamo un esempio, facciamo un'analogia con la vista. Ad esempio quando una persona ha problemi di vista, quando legge un libro, legge un giornale, vede ad esempio tutte le lettere più piccole, magari le vede più offuscate, a quel punto mette gli occhiali come ce li ho io e vede tutto nitido. Quando invece abbiamo un problema di udito, quelle lettere certe si continuano a vedere benissimo, altre non si vedono per niente. A questo punto aumentare il volume consentirebbe di far sentire ancora di più le lettere che si sentono bene e si continuerebbe a non sentire le lettere che invece si hanno perso, diciamo. Questo cosa significa? Significa che sentire di più non è sinonimo di capire di più. Infatti noi con gli apparecchi acustici abbiamo il compito di far sentire di più in maniera selettiva. Quindi dobbiamo far sentire di più. È meglio solo quelle lettere che la persona ha perso e a quel punto riuscirà anche a comprendere di più. Quindi sì, purtroppo non è sufficiente semplicemente aumentare il volume della tv. Beh, questo è molto interessante. Penso che cambi un po' anche il nostro approccio, no? Rispetto alle persone che magari non sentono bene. Ma come mai, secondo voi, le persone banalizzano questo problema oppure addirittura lo evitano, Giulia? Allora, sicuramente alla base ci sono tutti i preconcetti che abbiamo noi sull'udito e anche ovviamente sulla soluzione da indossare, no? Quindi di base tutto quello che si sente dire dall'alba dei tempi, che viene visto come una vergogna, perché sono tutti convinti che sia una cosa troppo visibile, troppo estetica, cosa che ormai è sempre meno. Poi ovviamente il discorso prezzo nel dover affrontare la soluzione e poi di base comunque il fatto di dire se ho questo handicap sono vecchio, mi sento meno rispetto agli altri magari che hanno la stessa età, mi faccio vedere come problematico con dei problemi, allora sono più vecchio rispetto agli altri, quindi di base un pochino tutto. Infatti solitamente ho più difficoltà con gli uomini rispetto che con le donne, sono un po' più esteti, sarà per i capelli corti, ok? E quindi è divertente perché mi dicono ma guarda non serve che risolvo il problema, meglio che non sento perché così non sento la moglie, allora la sdrammatizzano sempre. Ho capito, anche il mio collega sorride, chissà perché. Allora Giulia però tu so che ti occupi anche di bambini però ovviamente la stessa cosa mi hai detto alcune persone si sentono vecchie, succede ovviamente anche i più piccoli, anche loro possono avere problemi di udito o è sempre solo una questione che peggiora andando in là con l'età, Giulia? Eh no, purtroppo alcuni nascono proprio con la problematica, il difficile a volte è beccarli subito, quindi accorgersi del problema visto che appunto non imparano subito a parlare, non possono lamentarsi e quindi quello grazie all'ospedale che fa subito uno screening, uno natale, tutte queste cose qua, il supporto dei parenti, dei familiari, bisogna starci dietro e rendersi conto quando non sente neanche un rumore che facciamo, quindi sicuramente si può avere a tutta l'età purtroppo per più motivi, che sia un virus, che sia una cosa genetica, che sia un rumore improvviso che mi danneggia l'orecchio, ci sono tanti tanti motivi per cui purtroppo si può diventare sordi, questo sì. Chiaro insomma Giulia. Sì, dopo ovviamente la famiglia anche lì deve aiutare tanto, perché abbiamo bisogno anche del loro supporto e tante volte gli è difficile accettare l'handicap che ha il bambino, quindi bisogna collaborare proprio in equip, noi chiediamo l'aiuto di tutti. È fondamentale, quindi insomma anche noi con i nostri familiari conoscenti possiamo cercare di fare qualcosa ed è quello anche che un po' sentiamo anche noi tra le richieste dei nostri ascoltatori. Se ad esempio abbiamo un familiare che tiene sempre la tv alta e chiaramente potrebbe avere magari qualche problema di udito, è una cosa non sempre facile da affrontare, no? Che consigli potete dare, che cosa si può fare in questo caso? Ma allora in caso anche di un minimo dubbio va fatta una visita, va fatto un controllo dell'udito. Da chi andare? La prima figura, il primo professionista da cui bisogna andare assolutamente è il dottore Ottorino Laringoiatra. Come tutte le cose ci possono essere dei contri perché spesso, soprattutto nel pubblico, ci sono dei tempi di attesa abbastanza lunghi. L'Ottorino è sicuramente la persona corretta perché fa una diagnosi, capisce qual è il problema e indirizza poi la persona alla giusta soluzione. Qualora però si volesse intervenire in tempi più rapidi, si può tranquillamente venire in un centro acustico, ci sono gli audioprotegisti ovvero la nostra figura, come la mia figura è quella della collega e in questo caso riusciamo almeno a capire se c'è un problema e indirizziamo appunto dal giusto professionista o se non c'è nessuna anomalia. Come tutte le cose la prevenzione è la miglior arma che abbiamo. Prima si interviene, meglio è. Ricordiamoci, giusto per finire, che le persone in Italia da quando percepiscono, da quando iniziano a capire che c'è un problema di udito, aspettano mediamente 8-10 anni prima di iniziare ad informarsi. Spesso questi 8-10 anni sono deleteri, questi 8-10 anni fanno danni perché in questi anni il cervello si abitua a sentire in un certo modo e riabituarlo a sentire la migliora corretta non è sempre così facile, soprattutto se abbiamo di fronte a noi una persona che ha 70-80 anni, dove il cervello non è più quello che aveva a 20 anni, per capirci. Beh, questa è una cosa molto importante che hai detto, no? Perché a volte si pensa, vabbè, adesso non sento tanto bene, però può cambiare niente, no? Rimango così mal che vada e invece no, effettivamente poi diventa più difficile poter intervenire. Sì, assolutamente sì, ma immagino come tutte le cose in realtà, il tempo è la variabile più importante di tutte. Spesso da noi vengono persone e dicono, boh, spenderò qualcosa in più, prenderò delle tecnologie migliori. No, quando il cervello, diciamo, per dirle in parole semplici, si addormenta, dopo quella parte lì non si riesce più a risvegliare. Se certe lettere sono perse al 100%, non le recupereremo più. E il tempo è sempre la variabile più importante di tutte. Quindi c'è un dubbio? Prevenite, andate a informarvi, fate un controllo. Ci sono tanti posti, tanti centri acustici, tanti dottori, si possono fare anche degli esami online, giusto per capire se ci può essere qualcosa da approfondire, diciamo. Questo è il grande consiglio che posso dare. Beh, io penso che ci abbiate dato una bella lezione anche di consapevolezza su quello che è un problema, ma insomma non sentire bene e poi insomma nella nostra vita quotidiana diventa qualcosa di davvero importante. E allora chiediamo Francesco Pontoni e Giulia Venturini di ricordare tutte le modalità per potervi contattare, eventualmente fissare un appuntamento, fare qualche domanda. Assolutamente sì. I modi più semplici sono chiamare l'848 39 00 19 per prendere un appuntamento, altrimenti potete andare sul nostro sito www.toni.com, lì all'interno ci sono tutti i contatti, c'è la lista degli studi con gli indirizzi e potete tranquillamente anche andare in un centro e prenderlo direttamente lì. Va detto che soprattutto in questo periodo di pandemia è meglio chiamare e fissare un appuntamento al telefono, come potete ben immaginare. Certamente questo è fondamentale. Io intanto vi ringrazio moltissimo, è stato molto interessante questo appuntamento. Grazie a Francesco Pontoni e Giulia Venturini di Pontoni Udito e Tecnologia è una realtà insomma nel Triveneto presente con 25 studi e che sempre aiuta le persone a sentire meglio con i giusti apparecchi lavoro appunto che fanno loro audioprotesisti. Grazie per essere stati con noi, noi ci risentiremo naturalmente, magari risponderemo ad altre domande e spiegheremo ancora meglio che cosa si può fare per intervenire su questo disturbo. Grazie mille per essere stati con noi. Assolutamente sì, grazie mille, buona giornata. Ricordo ai nostri ascoltatori che poi potranno ritrovare questo video disponibile sia sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube e sul nostro sito radio.zero.it per appunto risentire tutti i passaggi e cogliere quello che vi abbiamo raccontato oggi. Noi torniamo tra poco con altre informazioni, altre curiosità, quindi rimanete con noi su Radio.zero. FM FM